La sfida tra disperate finisce con il risultato ad occhiali, eppure le occasioni ci sono state, più per il notaresco che non è riuscito a concretizzare, ma pallegol le ha avute anche il Termoli, insomma un punto che non accontenta nessuno e che lascia le due squadre in fondo alla classifica. Partono forte i padroni di casa con questo colpo di testa di Marchetti che avrebbe meritato maggiore fortuna. Il notaresco ci riprova poco dopo, ma la mira dei suoi è da rivedere. Il Termoli, lo russo sempre pungente, tenta il pallonetto, sarebbe stato un gol pazzesco, ottima l'intuizione, meno l'esecuzione. Gli abruzzesi costruiscono sull'asse Gurini-Marchetti, ma anche questa volta la mira non è delle migliori. Dicevamo che le occasioni capitano anche al Termoli, Defendi è bravissimo nel calciare questa punizione, Shiba conferma di essere un portiere vero. La prima frazione si chiude con il rosso-blu in attacco, ma il gol resta una chimera. Nella ripresa complice la stanchezza, l'intensità diminuisce. Il notaresco mantiene un predominio territoriale che consente ai ragazzi di De Patre di creare alcune situazioni pericolose che non bastano tuttavia a sbloccare il match. Servirebbe un episodio. Se Dai cade in area di rigore, il contrasto è energico ma pulito. L'arbitro non interviene. Finisce 0-0. La delusione è tanta. Mercoledì al Cannarsa. Altra sfida salvezza contro il team Nuova Florida.